Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale della Prof.DG. Vi presenterò Giuseppe Ungaretti in circa 10 minuti con delle domande tipo che noi professori vi facciamo alle interrogazioni. Chi è Giuseppe Ungaretti? Ungaretti nasce ad Alessandria d'Egitto nel 1888 poiché il padre lavorava come sterratore per l'apertura del canale di Suez e muore a Milano nel 1970. La sua vita è costellata di avvenimenti drammatici sia a livello personale che storico. Studia all'Università di Parigi la Sorbona ed entra in contatto con gli ambienti avanguardisti. Con lo scoppio della prima guerra mondiale torna in Italia e, sradicato e in cerca di un'identità nazionale, aderisce al movimento interventista, arruolandosi come soldato semplice di fanteria, combattendo sul Carso e poi in Francia. Compone in questo periodo le più note e struggenti poesie di guerra. Trasferitosi a Parigi, sposa Jeanne Despoix, da cui ha due figli, Maria e Antonietto. Aderisce al fascismo, dal quale però poi prenderà le distanze. Si avvicina anche alla religione cattolica. Viaggia molto e nel 1936 ottiene la cattedra di letteratura italiana all'Università di San Paolo in Brasile. Dopo la perdita del fratello Costantino vive la tragica morte del figlio Antonietto di soli nove anni. È il 1939. Nel 1942 torna in Italia e all'Università di Roma riceve la cattedra di letteratura moderna e contemporanea. Perde anche la moglie e negli ultimi anni frequenta Bruna Bianco. Nel 1970, anno della sua morte, riceve a New York un prestigioso premio dall'Università di Oklahoma. Le sue raccolte poetiche sono riunite nell'opera Omnia, Vita di un uomo. Qual è il compito del poeta e quello della poesia per Ungaretti? Come viene spiegato nella lirica Il porto sepolto, il poeta deve approdare al cosiddetto porto sepolto, che simbolicamente rappresenta lo scavo nella materia poetica e quindi anche negli abissi dell'inconscio e deve carpire il mistero profondo dell'esistenza per portarlo alla luce e diffonderlo tra gli uomini. Tale ricerca può essere anche interpretata come un rito di iniziazione del poeta eletto. Con Ungaretti si riqualifica quindi il ruolo del poeta, l'unico capace di cogliere le improvvise illuminazioni che spiegano, attraverso parole pure, scarne ed essenziali, il senso del nostro essere. In che modo l'esperienza della Prima Guerra Mondiale si riflette nella poetica di Ungaretti? Nel 1931 le due raccolte poetiche Il porto sepolto e Allegria di naufragi vengono raggruppate in un'unica raccolta, l'allegria. Allegria di naufragi è uno simoro che spiega la filosofia di vita di Ungaretti. I naufragi rappresentano gli eventi tragici, l'allegria invece è lo slancio vitale che possediamo, il non arrendersi mai. L'allegria con 70 liriche è suddivisa in 5 sezioni. Ultime, con i testi antecedenti all'esperienza della guerra, il porto sepolto, naufragi e girovago, tre sezioni in cui è predominante il tema bellico. Inoltre nel porto sepolto ci sono anche dei testi che riflettono la poetica dell'autore. Ed infine prime, con testi composti dopo la guerra. Le tematiche maggiormente trattate sono la terribile esperienza della guerra, lo stato di sospensione perenne tra vita e morte, la solitudine, ma anche il sentimento di fratellanza, unico faro nei momenti più bui. Dal punto di vista stilistico, l'allegria è un'opera fortemente sperimentale. In questa raccolta, che si configura con un impianto diaristico, Ungaretti fonde il pensiero simbolista della parola pura e della realtà che va decifrata con elementi futuristi, come ad esempio l'assenza di punteggiatura, l'uso dell'analogia, gli spazi bianchi per indicare le pause, la frantumazione del verso libero e quindi della sintassi, l'abolizione della rima. Invece, la deformazione angosciosa della realtà, che diviene specchio dell'interiorità dell'uomo, è di matrice espressionista. Quali sono le liriche più celebri della raccolta L'Allegria? Soldati, Veglia, San Martino del Carso, Sono una creatura, I fiumi, In memoria, Il porto sepolto e Mattina. Quali temi sono presenti nella raccolta Sentimento del Tempo e che cambiamenti strutturali e linguistici incontriamo rispetto all'Allegria? La prima edizione è del 1933, l'ultima è del 1943 e l'opera contiene 70 liriche, ripartite in 7 sezioni. Come suggerisce anche il titolo, il terreno fertile su cui costruire i pensieri e quindi i testi è il tempo, avvertito come qualcosa di soggettivo, alla maniera di Berson. Ungaretti riflette sul dolore, sul binomio vita-morte, sull'esistenza e riscopre anche Dio. Queste liriche sono slegate dall'esperienza bellica e sullo sfondo sono presenti la campagna romana e la Roma barocca, esemplificazione della precarietà della vita. È dunque una raccolta poetica fortemente meditativa. Dal punto di vista stilistico e linguistico è un'opera che fonde elementi avanguardistici come l'analogia e le immagini improvvise, tipo folgorazioni, con elementi più tradizionali. Mette infatti da parte i versi brevi, detti versicoli, presenti nella raccolta all'allegria e guarda soprattutto ai modelli petrarchesco e leopardiano, riprendendo in decasillabi novenari e settenari. Reinserisce la punteggiatura, la sintassi diviene più complessa, utilizza un lessico più letterario, più adorno, più prezioso e quindi più musicale. In che modo i drammi personali e storici hanno influenzato anche le raccolte poetiche successive? Ungaretti nel 1947 pubblica Il Dolore, opera in cui grida la sofferenza per la morte del figlio Antonietto e la collettiva angoscia per la seconda guerra mondiale e l'affermazione del nazismo. Nella raccolta poetica Un grido e paesaggi del 1952, il poeta rievoca il Brasile e nuovamente la morte del figlio. Celebre e struggente, nonché accostabile all'ode di Carducci Pianto Antico, è la poesia Gridasti Soffoco. Che cosa rappresenta metaforicamente il poema drammatico La Terra Promessa? È un'opera incompiuta che Ungaretti inizia a scrivere nel 1935 e che viene pubblicata nel 1950. In questi 15 anni abbiamo visto come la vita di Ungaretti cambia molto e così anche l'assetto e i contenuti dell'opera stessa. Ungaretti infatti, attraverso il mito di Enea, voleva rappresentare la perdita della giovinezza, dell'amore, il costante fluire del tempo, le aspirazioni dell'uomo, il suo tendere ad una terra appunto promessa ma irraggiungibile. Vira poi però verso tematiche più cupe e la morte divene l'argomento cardine, concepita come Sentimento del nulla. La tematica della morte viene poi approfondita nella sua ultima opera, Il tacquino del vecchio, pubblicata nel 1960. Il Giuseppe Ungaretti della prima produzione, ovvero dell'allegria e di sentimento del tempo, è ermetico, sia dal punto di vista contenutistico, in quanto scava nella propria dolorosa interiorità, sia dal punto di vista formale, poiché rompe con i canoni tradizionali. Nelle raccolte poetiche successive, questo tratto invece si attenua. Spero che il video sia stato interessante ed utile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi ulteriori novità e nuovi video. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, commentate e condividetelo con i vostri amici. Alla prossima ragazzi, sempre qui con la Prof.DG!